il bat segnale ma significa batman ea metropolis potrò dimostrargli di cosa sono capace gli proverò che sono un assistante migliore di robin sono il massimo non come quell'uccellino tremante io non ho paura di niente sai chi ti aspetta cara questo è il miglior ristorante di sushi di tutta metropolis e quindi cara ci ha messo mesi a trovare un tavolo ti prego non mettermi in imbarazzo che roba è si chiama wakame è insalata di alghe mangiala le alghe le ho già mangiate a pranzo ah fantastico questo è il loro famoso drago rosso drago io dovrei mangiare questa roba avete del ketchup là dietro non posso crederci cara denvers ti porto in uno dei ristoranti più esclusivi della città e tu chiedi il ketchup mangialo mangialo pesce alla griglia forse questo sarà più di tuo gusto preferisco mangiare il pesce a bastoncini senza testa sei sicura che sia grigliato sembra un po no me ne vado me ne vado mi faccio un hamburger si che cosa ci fai tu qui qui dove pronto per la ceretta signor gordon cosa per fare la foto dell'annuario l'annuario ti lasciamo un bel vestito un bel vestito o no ps abbiamo mandato tutto il resto in lavanderia ciao i tuoi genitori adottivi barra tutori legali denvers cosa ai pass foto bombing beach er non si fa è un momento privato scusa allora aspetto qui bella mossa beach er adesso basta niente più a petta gentile eccomi con 30 secondi di anticipo mi scusi puoi aiutarmi scusi 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 ecco qua signora ha attraversato la strada attraversato la strada io volevo sapere l'ora l'ora ce l'ha fatta appena in tempo ma certo sweet justice va dritto alla meta sorpresa